Chi ha preso la mia Y10? Eh no Elisabetta, la mia Y10 no! Fermati! Suo pallina, ricambio i saluti di papà. La Y10 la prendo io. No, la prendo io. Eh no, la prendo io. Eh no, l'ha presa papà. I duelli li vinco sempre io. Y10, piace alla gente che piace. Grazie.